o Bene a tutti ragazzi sono TheKingGon99 e benvenuti qui in questo mio nuovissimo video Oggi finalmente dopo tanto tempo non vi carico un video sarà forse un mese, non lo faccio, non mi ricordo Siamo qui sul nuovo COD che ho più di World War 2 Pronti a spaccare i cuori anche se ormai alla PlayStation non gioco poco Quindi le mani su COD ultimamente le ho perse, però sti gran cazzo Sono qui con un video perchè, buh, siccome era oggi la domenica e non c'avevo cazzo da fare E abbiamo registrato un video carico sul canale, tanto so che a voi fa sempre piacere Se no è vero Sì ragazzi Ci rimango male se non vi piacciono i miei video Perché poi mi deprimo e niente la vita lo scrivo Ok Allora, siamo su Gibraltar Mappa che a me piace un casino Anche se la gente cantera come non mai Oh bello Eh vabbè Morte in diretta Salmo le gol Ah mamma Comunque se volete qualche altro video di Call of Duty Magari in compagnia ditemelo qui sotto nei commenti Anche se non commenterà mai nessuno nella vita Anche Insomma funziona ormai Questo è il canale È abbastanza inattivo Però Lo dico si gran cazzo con altri video Ogni tanto mi piace parli Giusto per passare il tempo e Vale qualcosa quando sta accadendo Che poi mi rompe i coglioni Devo bestegnare i santi Le madonne Il porco di Dio Eh cosa volevo dire Il porco di Cristo scusate Il porco di Dio è troppo un streamer Ma Bella fra Inza l'STG con Con rigatura avanzata È tipo Pishit O magari ci avessi la mira voi Ancora meglio proprio Ah che fallo Siamo pure perdendo Viva il terrestre Bella fra Bella fra Comunque questo video è quello tipo Primo video da maggiorenne Anche perchè tipo Ieri C'è che Per me è oggi Però per voi sarà ieri Oppure sempre oggi dipende Ma c'è Dio Sei morti del cazzo Ah beh sicuramente per voi sarà ieri Praticamente ho fatto 18 anni Quindi niente Adesso Sono finalmente perseguibile dalla legge E Dio è poca Poi è una cosa certa Vabbè A parte le puttanate Cerchiamo di vincere questa partita Anche perchè Di fare una buona prestazione Ormai C'è questo Bello pro Si è esploso con la mia granata Vieni un po' ti saspetto Managgia i santi Avete visto che non c'ho più la mira Avete visto che non c'ho più la cazzo di mira Dio polco Madonna Ciao No 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 Dio io Troppo bello sto gioco Però regà non c'è proprio il tempo per giocarci E neanche tanta voglia Perchè comunque Sto sempre in giro Per il mondo Ciao fra Ciao 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 Stavo sentendo Venom Che bello avere le cuffie E' bello E' una latina Avvistato Buona Un nemico Non devono rifornirsi Questi hanno un po' di cancro C'hanno un po' eh Ahhhh Mannaggia i santi Vorrei congettato da partita Perchè comunque Non vorrei fare troppo schifo Come al mio sogno Con il signore Mannaggia San Crispino Mannaggia Sto cazzo divino Andava a fare la rima eh C'è Tanta roba lì Bello Sembra più L'arma sembra più ferma con regatura avanzata Non so se l'impressione è mia Ma sembra più ferma E quindi io dico Niente C'ho qualcosa Anche perchè Tipo Bestemmi santi Quando l'arma se ne va A fan cura O rincuolo Quindi poi Devo bestemmiare Anche fa due lì Perchè mi si mette a favore Eh 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 Ok basta No Tomare puttana Vedi che fa i bocchini col culo Vedi che fa i bocchini col culo Vabbè va Vabbiamo Non lo so Non lo so Vabbè 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 Non lo so Lo so Non lo so Con l'altra no che vuole conto spiaggia giustizia cazzo ok 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 chiusa ok ti rigiugno a me ho un fratello mannaggia c'è vero, sapano cazzo guarda, guarda il musica c'è un'uncinio abba dai 17-7 per la prima partita e tipo come Stotty che fa iphone e kick facciamo anche una seconda partita così il video dura un pochino di più e sbario almeno evitato ci vediamo e qui c'è una seconda partita equipaggiato l'arma epica per sbuffare magari invece di fare solo due partite ne facciamo tre però come vediamo perchè sennò tipo un video esce lunghissimo da danniare escono 20 minuti di video e il computer ci mette anni per renderizzarlo quindi non c'ho tutto sto voglio di starmi un'ora a renderizzarlo anche se succederà lo stesso però sti cazzo c'è vorrei evitare che tanto ha fatto qui tu ti vedo e qui uuuuh chi ha il cazzo ritardato in me vaffanculo chi deve muovere madonna quanta gente che cazzo è la roba che tazzo è il gritto lo cieco quello nooo eeeh c'è o fra viva 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 donna salto ok scusate sto parlando poco a sto giro è perché mi devo concentrare sulla partita perché io sta mappa mi sta proprio sul cazzo anche se prima l'amavo ma adesso non è più così quindi cerco di concentrarmi per fare almeno una partita decente invece no, mi rimane su 4 a 0 una rulla Wii UAB, grazie mille gentilissimo Wii Wii l'esplorio di un minuto avanti così ok qua c'è qualcuno arrivano messaggi ragazzo me la mannaggia chitano è ragazzo sta facili margiani qui uuuu get rekt oh my god ok no vaffanculo 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 gioco l'esplorio vaffanculo qui è questo vabbè quello c'è lo scatto mi salto così sul cazzo mi salto non mi so male mannaggia a dio vaffanculo a chi va a muerti mi succhiate il cazzone via vabbè no ma è preso da dietro ti venisse un cazzo del culo proprio ma mi dica che quello sta usando il glitch dai ma fai schifo non puoi usare il glitch seriamente dai sei un figlio della merda è un figlio della merda è un figlio della merda è un figlio della merda ora ora siamo in vantaggio Ma do, ci zicco qualcuno Questo cazzo ha smirato Buona dai, 18-7 Buona come fane Allora, lanci i rifornimenti Allora, prendiamo prima quello raro Così vediamo Se la gioia, se le gioia ci assistono Mi sa che epico eh Il cazzo epico Il mio cazzo epico Il mio portuto cazzo E lanci i rifornimenti non male Vabbè, allora Vi devo far vedere un attimo l'arma che ho trovato prima Perché mi sa che non ve l'ho fatta vedere Sì, infatti non ve l'ho fatta vedere Perché la partita non cominciava subito Ok, dell'MP40 L'MP40 No, l'MP L'MP40 A me non mi ispira tantissimo No Bella, bella Ci sta Magari in un prossimo video L'andremo a provare La mia persona Giorgione Taffiera BABOM BABOM Spero che il video vi sia piaciuto Anche se ormai i video Li faccio una volta ogni tanto Mi raccomando Lasciate tantissimi mi piace Iscrivetevi al canale se volete E se ancora non l'avete fatto E in descrizione I soliti canali I solite cose Anche se non hanno bisogno di sponsorizzazioni Perché Non faccio più video Niente, dai Fatemi sapere nei commenti Se volete altri video di COD E noi ci vediamo al Prossimo video Ciao